ciao a tutti i ragazzi allora dovete far silenzio albi albi non parlare ok no dimmi dimmi perché questa qui è una di quelle missioni in cui si deve fare veramente attenzione a non fare un pfff caduto a cazzo no 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 comunque e aspettano ho detto buongiorno io sono albi che poi magari la gente si preoccupa se ma che dici buongiorno è sera guarda è buio non è sera vabbè ho capito ma anche se è sera tu devi pensare già al domani devi guardare al futuro e anche se fosse anche se fosse è sempre un buongiorno perché tipo in australia ora c'è il sole ah beh giusto poi è un ragazzo così solare non potrebbe dire che buongiorno però qua mi sa che siamo già qua siamo già nell'emisfero australia o boreale o quel cazzo che è sì sì perché siamo in iran teoricamente no? sì sì qui va bene ti è andata bene ti è andata bene ragazzo quanto è brutta l'M9 silenziata? come brutta? a me è sempre bella italiana va bene l'esercito americano quando prende l'M9 è una figata solamente perchè lo sai vero che l'M9 vabbè aprite aprite l'M9 americane non le fanno in italia veramente posso ucciderlo? si aspetta tu qui prendi no come fare una missione stealth e farsi sgamare all'inizio no no non abbiamo perso solo che adesso arriveranno tutti in massa e dovremmo sparare brutalmente vedete questa è una bella missione stealth che attraversato il muro attraversato il muro questo qua vabbè non è che anzi così si fa anche più velocemente cioè non è che cambi la vita solamente che no vabbè ma dai hai rovinato tutto cazzo ma cos'ho io? eh sì perchè io io ho ammazzato il mio tu non hai ammazzato il tuo eh certo ragazzi veramente le missione stealth si fanno così ok tu prendi con la destra si ok io prendo quella quindi eh aspetta eh quello al centro si guarda con l'altro e l'altro si puoi fare 1 2 aspetta no al 3 o all'uno cioè non ho capito quando quando dobbiamo sparare le palle sono ancora qua si si no ma continua ormai c'hanno sgamato ma tanto non è che siano potenti ah ma per sempre ok allora rush questo deve essere aspetta sì sì rush però occhio che ti arrivano oh questa non muore grande coltellata che no hai visto hai visto che master adesso aspetta dobbiamo aspetta un attimo ok era tutto intenziale dobbiamo solo umiliarlo ok possiamo andare avanti ok no io volevo dire una cosa intelligente ma non mi ricordo ah si ecco stavo dicendo che le m9 americane non le non sono italiane praticamente loro comprano il brevetto e poi se le fabbricano da soli quindi cioè diciamo che soltanto il brevetto è italiano occhio alla porta solo una cosa non può stare davanti alla porta perché sparano cioè con la porta lì illuminata cioè vai ti dire davanti alla porta è bus ah ma che cattivi eh se non escono sono dei camperoni sai anche sul campo anche nel multi eh vabbè tira c'è una granata non hai da granata? no è perchè qua c'è un tizio da salvare quindi oh ehi bello come va? oh sulle mani yeah applausi per lego lego applausi per lego che fa saltare l'allarme ah certo dimmi tetto ma lo dobbiamo lo dobbiamo ascoltare? no no si tanto qua non c'è più nessuno pensano scendere tranquillamente e se muore? eh se muore sono cazzo sua ah ok perfetto ah ma abbiamo abbiamo già vinto? no e magari adesso dobbiamo solo dobbiamo portarlo per tutta la città perché non possono fare un'estazione in quella piazza dove non c'è nessuno no? noi dobbiamo fare un bel giro per la città attrarre un po' di fuoco nemico e poi può avvenire l'estazione attrarre un po' di fuoco nemico e hai fatto saltare l'allarme io porca ma ragazzi se questa missione non finisce perché devo allora chi è che non ha ucciso l'uomo che doveva uccidere? chi è che ha ucciso il nemico prima di organizzarsi e tutto? allora Captain Price non era così Captain Price te li dicevi cioè lui ti diceva ammazzone uno io penso all'altro cioè tu potevi ammazzare quello che volevi lui era veloce e faceva sempre tutto te sei una pippa è vero ragazzi quando uno è pippa la pippa rimane cioè non ci posso fare niente se l'abbiamo a capire pg 4 dimmi che che computer nabbo abbiamo conto allora io corro ma posso correre tranquillo no no sto andando eh no no mettiti occhio che si sparano dai tetti ma f*** ma ronna e poi sono io nabbo eh quello che corre in mezzo così eh ragazzi sono qui va bene che devi attirare poco nemico così io li vedo c'ho un g3 con un mirino strano è tipo infrarosso ah quello che vedi arancione si si è lì azzurri rnv eh se no non zoom no 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 questo qua non zoom ma è soltanto mirino infrarosso igo è molto carina questa cosa allora vediamo dai dai oh che cazzo che spara tra l'altro qua potete vedere gli effetti di luce che si possono mostrare in battefil 3 per far ancora un elogio alla grafica perché si può fare soprattutto quello di sto gioco vabbè se no che date altre cose però insomma così diciamo ah mi sparano perché non capi perchè non capi i tuoi allora io mi faccio quelli di destra e tu quelli di sinistra si ma il problema è che sono tutti a destra e se tu ecco ma che te tu devi attraversare la strada e venire a saltare il povero lego che è mezzo morto vedi sai madonna sono inutile lo so ma così c'è un bersaglio morto a terra e loro sparano a me non è vero allora ti devo pure rianimare mentre te spari come un perla con quella pistoletta oh che vuoi contatto con questa pistoletta avrò ucciso neanche me un coniglio aiuto 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 no ma vieni qua entri in questo buco e li vedi tutti cioè no ma pure da qua ce ne vede una cazzo eh sì certo tanto io faccio lavoro sporto chissà cosa tanto voi vedrete le nostre visuali poi sono convinto di vengo a agnubarti oh piano tranquillo sembra che sia finito oh qua ti devo far vedere un effetto allora ragazzi qua tenetevi forte perché succede la cosa più entusiasmante di Battlefield 3 vieni vicino a questo cancello ti dico solamente che devono sfonderlo con quelle auto che non so ancora che cosa siano boh hamer io le chiamo hamer ma non sono hamer quindi abbiate pietà guarda tieniti forte che stanno per fare una guarda cioè non ti dico niente voglio sentire la tua reazione e basta oh sono tutto eccitato dai dai sì eh eh questa è la mia reazione ti basta? sì può bastare dai ok che schifo adesso stai qua vicino a questa ruspa più meno uh che bello è la ruspa questo è un buon posto hai mai giocato con una ruspa? sì oh 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 ti ho detto è un computer nabblanci l'RPG poi ci lamentiamo che i giocatori nel multi spammano il puff e l'RPG eh imparano prendono l'esempio cioè sono gli sviluppatori che fanno il primo errore cioè qua è quasi comunque che bella questa ruspa possono salirci sopra specialmente? certo puoi anche guidarla e puoi schiacciare i tuoi avversari eh non hai mai dato una ruspa? no mi ricordo che esattamente no prende fuori dalle medie c'era un cimitero in cui c'erano sempre i lavori no? no a terra e c'era il muletto c'era un muletto tipo con una ruspa una cosa strana oh ma sei sempre a terra non cioè se non vuoi ascoltare le mie storie delle medie no ma mi fa cioè mi massacrano le tue storie cioè non riesco a poi dire esatto comunque io andavo là no con i miei amici e c'erano c'erano tipo appunto questo muletto con la ruspa e c'erano anche le chiavi no? allora ci tipo lo guidavamo e e facevamo i bulli così poi una volta abbiamo trovato anche delle riviste porno dei di quelli che ci lavoravano lì e eravamo piccolini e eravamo rimasti scioccati perché ma cosa cos'è? adesso parliamo piano perché tanto è notte i bambini non ci sono e e c'era tipo un'immagine dove c'era una che aveva la mano tutta la mano dentro di dietro no nel baule nella macchina una mano nel baule ed eravamo rimasti scioccati cioè dicevamo ma muore ragazzi dimmi te cosa si fa per un po' di odio insomma ma se volete stare con noi presto scoprirete le immagini più hard di Battlefield 3 solamente a mezzanotte su Gimba Network oh ma dobbiamo entrare? yeah abbiamo vinto no questa è più lunga questa è una delle più toste devo dire penso che non so voi ragazzi se anzi ma io so che siamo qua qual è stata per voi perlomeno perché ci ha giocato la missione più hard da fare qua in coppia ciao Baldi ciao oh che cazzo occhio occhio c'è gente che ti spara ma chi è? ma che cazzo ma sei tu? animale di merda ma dimmi te guarda ti ho salvato guarda che ti metto una mano nel baule oh piano allora dove si mette? ma adesso bollo ma arriva anche da dietro? si sparticolamente da dietro fa molto male oh nel baule arrivano ok allora quando hai sparare un po' muts boh sono un po' buco sui tetti perché stai imboscati inutili metti un po' di c4 per la strada per bene e fai saltare tutti non così vedi non sono capace devo insegnargli eh si vede che non hanno fatto le lezioni di counter i e d che ho fatto io non sono proprio capaci no mi si è so riscaldata la browning muori oh ma sta gente è sui tetti minchia ho detto oh 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 occhi di gatto oh oh ragazzi ci c'è l'abbiamo no 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 ma occhi di gatto cos'è ah ma io non l'ho mai visto il cartone delle ladre eh però c'è la prossima sono tre sorelle che han fatto un patto nananana nananana papà mia canterci 4 ma che faccio a scendere eh eh no io non voglio scendere ah stanno scendendo io piazzo ok oh bravo tu mi copri da lì eh però sì 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 ecco già mi spazi tu scommetto i copri di ricopro di proiettili ma che gentile si copri di proiettili oh arrivo nei cattivi erano i cattivi ok tu adesso io vodo cerca di non morire arriva fin da te nel metto tu dovresti cioè giusto così in via del tutto eccezionale coprirmi ok ma devi tornare qua vero se si no guarda stavo qui mezzo alla strada sui sparano occhio occhio ti sparano occhio 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 piano che qua dovevo scusa oh mi spara nei radi mi proteggi oh sì io che sto salendo sinistra gp la persona più vulnerabile dovresti dovresti cazzo io sono qua che me la rischia per te ma mori pure cioè io non mi faccio alcun problema ma chi cazzo è che mi spara la suite è tipo che ne so oh ma ti raccetterei salire su quella casa un attimino un po' ma se sei tranquillo ahahah spero che la sua vera tutto quello che mi ha scelto no che mi ha detto non ha morto ramirez era morto con l'esplosione della bomba lì bravo bravo spolera tutta la campagna non so di code 4 ah ah code 4 no no ramirez no non mi ricordo era un altro ramirez era quello di mother warfare 2 se non sbaglio oh vabbè qualcuno conosce un ramirez ce lo faccio sapere magari anche c'è tutto dai quello lì che quello lì che va tipo in giro per i giardini delle villette dei nobili americani a spaccare tutti e ammazzare la gente oh che cazzo mi sparano oh mi spara una pressione aiuto aiuto oh no cazzo sto per morire sto per morire sto per morire mio dio no 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 porca puzzola eravamo alla fine si eravamo alla fine si si era così finito bravo bravo ah poi sono io sei tu che sei morto per primo no 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 questa qua è sempre colpa tua che hai fatto suonare l'allarme che se non suonava l'allarme non c'era tutta quella gente prendevamo lo stagio lo mettevamo nella camionetta e ci non davamo basta era finita lì e invece e invece vabbè oh io cioè lasciate stare l'ego io sinceramente ho vinto per me è una vittoria morale quindi questo video va così l'ego l'ego mi dispiace per lui però mettete mettete un mi piace per me e un non mi piace per l'ego però mettete prima il non mi piace e poi il mi piace si ottima strategia si si mi piace ok perfetto quindi si direi che da me è tutto per questa missione va bene così va bene così la prossima volta ci sarà la quarta e vi passo quel fallito di l'ego si ma no in realtà noi l'abbiamo fatta apposta per raggiungere un po' di varietà se no vi stufate sempre a vedere delle grandi prestazioni vogliamo inserire anche voi vi lamentate della varietà e più varietà di così anche delle esatto ma ogni tanto si vince ogni tanto si perde non si può vincere e la vita quindi con questa lezione di vita vi lasciamo e alla prossima puntata ciao ciao